Siamo arrivati alla venticinquesima passeggiata con Dante, oggi percorreremo questo sentiero dei canti del paradiso, previa introduzione, canto diciannovesimo e ventunesimo. Incominciamo. La salita del viaggio celeste è descritta da Dante in una serie di gradi sempre più perfetti e mirabili per acutezza visiva che rendono i suoi occhi mortali, capaci di visioni armoniose e sublimi. Il pellegrino comprende che salendo verso la bellezza divina non solo la sua visione si perfeziona ma sente che anche il suo corpo si spiritualizza, pesa sempre meno perché la sua anima si affina nel contemplare il nuovo mondo spirituale inondato di luce. Il poeta quasi diventa dimentico di se stesso. La fantasia dell'artista scopre sempre il modo di arricchire il cielo di motivi terreni come se l'umano volesse introdursi nel sovrumano per migliorarsi e per divenire più aderente allo splendore di Dio come volontà grata al suo Signore. Le anime formano sempre di più figure simboliche, luminose, cantanti le lodi di Dio. Nel cielo del sole i sapienti si sono disposti in corone concentriche, luminose e danzanti. Nel cielo di Marte i militanti hanno formato una croce lampeggiante, suggestiva. Nel cielo di Giove le anime dei giusti hanno foggiato l'immagine di un'aquila. Nel cielo di Saturno i contemplanti spiriti, vedremo, saliranno e scenderanno per una scala dorata necessaria per far salire Dante negli ultimi tre cieli, in cui si potrà realizzare la conoscenza della ultima e più importante regione del Paradiso. Nel cielo stellato, Dante, nella costellazione dei Gemelli, che erano il segno della sua nascita, incomincerà il vero Paradiso, in cui Cristo scenderà dall'Imperio, eppure la Vergine Maria coronata dal volo dell'Arcangelo Gabriele. Il trionfo della luce sarà soprattutto nell'Imperio, che apparirà alla vista del pellegrino come una riviera luminosa, sfavillante di anime che come fiori si immergono nell'onda sprendente di luce, di luce divina e di tutto, che formerà poi una candida rosa celeste, candida rosa di anime. Immagini di struggente bellezza saranno quelle che riusciranno a regalare alla nostra vita interiore, la nostra vista interiore, la serenità di luoghi senza tempo, senza scossoni malvagi, senza inganni. La beatitudine è proprio questo, vivere immersi nella grazia di Dio. Dimentichi delle affanni vissuti, degli inganni patiti, delle solitudini in cui a volte la malinconia getta gli uomini più sensibili. Il pellegrino, dopo un lungo e travagliato cammino, giunge al mondo della grazia. Comprende allora che la natura umana, se ben diretta, può conformarsi alla volontà di Dio e giungere alla beatitudine. Dante capisce che qui, nella rivelazione, la certezza della fonte vera, unica, rispetto alla quale le cose giuste del mondo si immergono nella volontà divina e tutto ciò che è torbido, confuso, falso, viene disperso. Dante ha la percezione di un fervido approdo cui è giunto, l'animo assetato di giustizia da troppo tempo, trae qui la vera giustizia con un Dio che parla con la favella umana, con la nostra favella. Si comprende allora che la giustizia che si trova sulla terra può essere solo emanazione di quella celeste ed esclama, oh dolce stella, quali e quante gemme dimostraro che nostra giustizia effetto sia del cielo che tu ingemme. Sant'Omaso sosteneva che alla giustizia si addice che qualcuno renda ciò che è debito. La giustizia vera, quindi, è quella per la quale l'uomo si sottomette a Dio e gli rende qualcosa di ciò che gli è stato dato. La virtù, aveva detto Sant'Agostino, è summum amorem Dei, summamore di Dio. Essa richiede una risposta al richiamo e all'ordine divino. Dio ha posto la legge. Questo sarà il patto con la casa d'Israele. Io porrò la mia legge nel loro intimo e la scriverò nei loro cuori. Il peccato consiste allora nel trasgredire la volontà divina. Essere giusto è partecipazione amorosa alla divina luce. Questa è l'introduzione al canto diciannovesimo. In canto diciannovesimo molto importante. L'Aquila comincia a parlare e Dante gli chiede di sciogliergli un angoscioso dubbio. Perché sono dannati i virtuosi morti senza colpa ignorando la vera fede? L'Aquila risponde l'impossibilità di essere salvi senza la fede in Cristo, la quale però deve arricchirsi con le buone opere. Ecco, dopo l'introduzione possiamo incominciare la lettura del canto. Parea dinanzi a me, con l'ali aperte, la bella immagia che nel dolce frui liete faceva all'anime concerte. Parea ciascuna rubinetto in cui il raggio di sole ardesse, si è acceso che nei miei occhi rifrangesse lui. E quel che mi conviene ritrarte steso non portò voce mai, né scrisse in chiostro, né fu per fantasia già mai compreso. Che io vidi e anche udì parlar lo rostro, e suonarne la voce, e io, e mio, quando era nel concetto noi e nostro. E cominciò, per esser giusto e pio, sono io qui esaltato, a quella gloria che non si lascia vincere a disio. Ed in terra lasciai la mia memoria, si fatta, che le gentili malvagie commenda lei, ma non seguo la storia. Eccoci, fermiamo, commentiamo. Pareva, cioè l'aquila appariva, appariva questa immagine, di una bella immagine, dinanzi a me, con le ali aperte, con le ali in tono di vittoria, di trionfo, che nel dolce godimento, la fruizione della beatitudine, della bellezza, liete facevano l'anime conserte, le anime riunite. Quindi l'aquila è formata da queste anime e che godevano di questa beatitudine. Pareva l'acqua a ciascuna anima come un rubinetto, cioè un rubino risprendente in cui si accendesse un raggio di sole e che nei miei occhi, che potesse bagliare i miei occhi, tanto che era intenso, intenso, e quindi la mia vista addirittura mi era bagliata per il riflesso. E quel che mi conviene raccontare adesso, testeso, non è stato mai detto, non portò mai voce, non è mai stato scritto, né ci fu opera di inchiostro che potesse, ecco, con la fantasia, comprendere, immaginare, concepire questo che io sto descrivendo, quello che io vidi, e anche sentì parlare il becco dell'aquila e l'orostro e suonare la voce come io e mio al singolare, mentre in realtà questa voce proveniva dal coro complesso, uniforme di tutte le anime e quindi dalla pluralità delle anime, in realtà doveva dire noi e nostro. e cominciò per essere giusto e pio sono qui esaltato, cioè per aver compiuto il mio dovere, l'aquila, simbolo dell'impero, simbolo anche della volontà di Dio, perché bolle l'impero romano. Sono qui esaltato a quella gloria che è stata voluta da Dio, questa è la volontà di Dio, cui essa si conforma e quindi la giustizia è una sola in realtà, è quella che si conforma alla volontà di Dio. E cominciò a essere giusto pio sono qui esaltato a quella gloria che non si lascia vincere a Dio, quindi che non si allontana da ciò che Dio vuole, che in terra lasciai la mia memoria, ecco, la mia memoria è il ricordo di me, delle mie azioni e che vengono lodate, le azioni, però poi non seguono il mio esempio, quindi la giustizia viene tanto esaltata, ma in realtà sono non tutti gli uomini, ecco, la seguono, la seguono perché perché ci vuole rettitudine e ci vuole lungimiranza e ci vuole equità per esercitare il senso della giustizia. Così un sol caloro di molte brage si fa sentire come di molti amori usciva solo un suon di quelle immagini. quindi solo ecco dall'insieme delle tante anime usciva una sola voce, ecco, come usciva solo un suon di quelle immagini, quindi da quell'immagine usciva una sola parola anche se era frutto di tante voci. On Dio appresso, oh perpetui fiori dell'eterna Letizia, che pur uno parermi fate tutti i vostri odori, solvetemi ispirando il gran digiuno che lungamente ma tenuto infame non trovandoli in terra cibo alcuno. Benso io che se in cielo altro reame la divina giustizia fa sospecchio che il vostro non la prende con velame. Sapete come attento io mi apparecchio ad ascoltare? Sapete qual è quello dubbio che mi digiunco tanto vecchio? Per cui io subito fu invogliato ed esalta i perpetui fiori, cioè i fiori le anime belle del paradiso che pur uno parermi fate tutti i vostri odori, cioè emanate il vostro singolo profumo che però si mescola e c'è questa unità non solo di voci ma anche di presenze di colori e di profumi. Scioglietemi ecco con il vostro con la vostra parola con la con scioglietemi con con il vostro sapere il gran digiuno cioè il gran desiderio che ha procurato questa fame di verità di sapere non trovandoli in terra c'è qualcuno cioè nessuno che mi abbia dato il cibo adatto per soddisfare questo mio dubbio dubbio io so bene dice Dante io so bene che se è vero che la divina giustizia fa suo specchio si specchia nel cielo di un altro riame quindi nell'ordine angelico dei troni quello che guida questo cielo e tuttavia anche questo vostro riame i ribiati del cielo di Giove conoscono senza vero la giustizia divina mirandola ecco direttamente in Dio stesso e quindi Dante dice ecco potete solo voi dirmi la verità sapete come attento io mi apparecchio ad ascoltare come io so attento alle parole che voi mi direte sapete qual è quel dubbio che mi digiuno tanto vecchio quello che mi ha creato tanta ansia da tanto tempo quasi falcon che esce del cappello muove la testa e con l'ali si plaude voglia mostrando e facendosi bello vi Dio farsi quel segno che di laude della divina grazia era contesto con canti quasi sa chi lassù gaude poi poi cominciò colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro adesso distinse tanto occulto e manifesto non potesse il suo valore di fare impresso in tutto l'universo che il suo verbo non rimanesse in infinito eccesso il falcone ecco come l'aquila è contenta di poter rispondere le anime attraverso l'immagine dell'aquila dimostrano contentezza di rispondere e quindi sembrava quasi il falcone al quale tolgono il cappello perché c'era la veduta di mettere una specie di cappuccio ai falconi perché non si distraessero e poi prima di lasciare il volo lo toglievano e quindi si guarda si guarda intorno quasi ecco dando tutto compiaciuto batte le ali con le ali e si lancia a predare prima di a predare quindi a cacciare vi dio farsi quel segno quindi quel segno ecco si muove il suo disfatto e che di là che l'insegna ecco quel segno perché questo segno perché è l'insegna dell'aquila è l'insegna dei romani e quindi dell'impero impero e che è formato appunto da tutti questi spiriti in quali godono in questo momento di poter essere utili a Dante e godono della grazia divina della era contesa con canti quasi sacchi con canti che solo lì si possono udire e si possono godere poi cominciò colui che volse il compasso il sesto il sesto dell'indaniare quindi i confini del i confini del mondo distinse cioè Dio distinse nel mondo le parti visibili da quelli meno visibili e non poter imprimere l'universo tutta la sua potenza e perché perché le cose create da Dio quindi sono proprio per necessità dice Dante sono ecco infinitamente inferiori alla mente di Dio per cui gli uomini non possono capire e capire quindi distinse tanto culto e manifesto dice Dante e non poter il suo valore fare imprese non ha potuto rivelare tutta la sua forza perché la forza di Dio è superiore in maniera infinita rispetto a quella degli uomini per cui rimane sempre un punto poco chiaro per gli uomini che non riescono a comprendere e lo comprenderanno o solo o se Dio vuole se ecco potranno godere della beatitudine e ciò fa certo che il primo superbo che fu la somma ad ogni creatura per non aspettare l'umeca da cerbo il primo superbo è proprio Lucifero Lucifero che era la creatura più alta più alta per ecco si dimostrò superbo perché voleva voleva già conoscere tutto voleva conoscere la volontà di Dio voleva diventare addirittura gareggiare con Dio e quindi cadde con la sua caduta imperfetta immatura cerbo ed è qui è chiaro che ogni altra creatura inferiore a Lucifero che pure era un arcangelo quindi un essere superiore è troppo piccolo piccolo ricettacolo cioè la mente dell'uomo rispetto a quella di Lucifero è un piccolo ricettacolo e che quindi non può capire il valore di Dio nella sua complessità nella sua totalità perché Dio è infinito e non può essere misurato dice Dante se non con se stesso e quindi dice che non affine Dio e se con sé misura dunque vostra veduta che conviene essere alcun dei raggi della mente di che tutte le cose sono ripiene non può da sua natura essere possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che le parvente però nella giustizia sempiterna la vista che riceve il vostro mondo come occhio per lo mare entrosinterna che ben che dalla proda veggia il fondo in pelago non vede e non di meno è lì ma c'è la lui l'essere profondo ecco adesso incominciamo veramente con delle tersine molto importanti dunque la vostra intelligenza cioè la vostra veduta l'intelligenza di voi uomini dice è dimostrata che non può sostenere le cose della mente di Dio ecco che conviene dunque la vostra veduta che conviene essere alcun dei raggi è un riflesso è un regalo è un dono della mente di Dio però ecco chiaro non ha raggiungono l'altezza e l'infinitezza della volontà divina non può quindi per la sua natura essere possente cioè non ha la natura umana non è tanto tanto potente che non discerna il suo principio molto di là da quel che le parvene che possa comprendere fino in fondo il volere di Dio la mente di Dio quindi l'uomo può conoscere solo quello che della mente divina gli è permesso vedere gli è permesso conoscere e gli resta però occulto cioè nascosto quello che invece è nella profondità nell'abisso della mente divina e quindi l'uomo non può pretendere di raggiungere Dio di Dio però nella giustizia sempre eterna per cui come dice nella dimostrare quindi l'Aquila cerca di dimostrare l'incapacità della creatura da Lucifero all'uomo di penetrare nella profondità della mente divina e quindi che ben che dice che fa un paragone dice Dante che l'uomo tante volte dalla spiaggia vede il fondo del mare di lontananza vede il fondo del mare una volta però che è in mezzo al mare ecco che la profondità non c'è quindi ha avuto una percezione un'illusione di conoscere però la percezione esatta non può ricevere perché il mare è talmente profondo che la vista umana non può discernere e non di meno è lì quindi la profondità c'è quindi c'è la profondità di Dio c'è la volontà di Dio ma c'è la Lui l'essere profondo ma poiché tanto profondo non si rivela all'uomo e adesso è una terzina molto bella viene l'uomo non è se non vien dal sereno che non si turba mai anzi è tenebra o d'ombra della carne o suo veleno assai temo aperta la tebra che tascondeva la giustizia viva di che face questi onco tanto crebra che tu dicevi un uomo nasce alla riva dell'indo e qui vi non è che ragioni di Cristo né chi legga né che scriva e tutti i suoi voleri atti buoni sono quanto ragione umana vede senza peccato in vita o di insermoni muore non battezzato e senza fede ov'è questa giustizia che il condanna ov'è la colpa sua se non crede or tu che sei chi sei che vuoi sedere a scranna per giudicar di lungi mille miglia con la veduta corta d'una spanna certo a colui che me cosa sottiglia della scrittura sovra voi non fosse da dubitar sarebbe meraviglia o terreni animali o menti grosse la prima volontà che da sé buona da sé che sono ben mai non si mosse cotanto e giusto quanto a lei consola nullo creato bene a sé la tira ma essa radiando lui cagiona bellissimi questi e adesso andiamo a sciogliere cioè l'ume dice l'intelligenza dunque per l'intelletto umano c'è l'intelligenza dalla luce una vera intelligenza non può che derivare dalla mente divina e altrimenti che non si turba mai e quindi che non si lascia confondere e sbagliare nei propri giudizi nelle proprie vicende nelle proprie scelte anzi a volte la mente dell'uomo è tenebre si immerge nelle tenebre nel buio oppure d'ombra della carne oppure è negli errori delle proprie percezioni delle proprie convinzioni o addirittura diventa veleno perché la mente umana può diventare scettica e non crede più quindi se qualcosa non deriva dalla mente di Dio cioè se il nostro pensiero umano non è in sintonia con la legge di Dio con la spiritualità che da Dio ci viene data allora non è verità non è conoscenza e l'uomo è lontano dalla verità ha l'illusione di conoscere di sapere ma non riesce ad arrivare alla verità assai ora ti è aperta ti è aperto il nascondiglio la tebra che nascondeva ecco in te il concetto di giustizia viva la giustizia viva è solo quella che deriva da Dio di che facevi questione tanto tanto crudo tanto tanto viva crema tanto frequente assilante e che tu dicevi un uomo nasce nasce ecco lontano nasce nasce all'indio genericamente per indicare una lontananza da quella dei cristiani e nasce e qui non è non ascolta nessuno che gli parli di Cristo può leggere qualcosa che riguardi la vita di Cristo il cristianesimo nascere il cristianesimo né può scrivere nulla nulla e tutti però i suoi voleri e tutti i suoi atti sono ecco buoni secondo il lume della ragione umana e anche i suoi sermoni e quindi anche i suoi discorsi e quindi ritiene ecco di non commettere cattiverie e quindi il suo vivere senza peccato non dice cose cattive sermoni sbagliati parole sbagliate ora muore però non è stato battezzato e quindi non ha potuto conoscere la fede cristiana dov'è la giustizia che lo condanna perché ecco non può arrivare alla beatitudine dov'è che colpa in cosa ha sbagliato se non crede se non crede questo è un problema ecco veramente importante 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 che è anche stato molto dibattuto da Sant'Ommaso Sant'Ommaso infatti diceva diceva Ubi dest cognizio veritatis falsa est virtus etiam in optimis moribus allora qualunque dunque che nascono sulla riva dell'India non sono veramente virtuosi perché questa virtù non hanno commesso colpe però dice non hanno il peccato originale in sé e quindi non sono possono salvarsi per vie straordinarie sempre se c'è la volontà di Dio e quindi possono ecco a volte salvarsi per appunto perché perché c'è una specie di perdono di perdono voluto da Dio e che li chiama a sé che li giustifica e quindi c'è una un'innocenza infusa quasi ecco in queste anime però ecco la verità è che si salva solo chi ha conosciuto Cristo chi ecco non 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 ha dubbi quindi Santo Maso infatti aveva trattato il problema delle virtù che furono il multis gentilibus cioè tanti pagani furono corretti onesti nel vivere però furono quelle loro virtù solamente secondum quid non autem semplicitem cioè sono ecco virtù così vissute per una per una bontà che pur sempre è nell'animo dell'uomo nella mente ma non perché sono virtù vere che volute che nascono da una fede in Cristo sono virtù che nascono dall'umanità che pur sempre creazione buona di Dio però c'è il peccato originale che rende imperfetta la volontà anche dell'uomo e quindi è solo Cristo che veramente può portare alla salvezza c'è ci può essere ecco nella mente umana una possibilità di rendersi conto degli errori ma degli errori ecco non ci è messo una sorta di pietà innata nell'uomo però la vera la vera dimensione di conoscenza di responsabilità deriva solamente dalla conoscenza cristiana la conoscenza di Cristo e allora è come se l'aquila giudicase le anime rimproverano in un certo senso d'ante o tu chi sei cioè chi sei tu chi credi di essere che vuoi sedere e così sul seggio del giudice e ti fai maestro e ti fai maestro che vuoi insegnare e insegnare quando ecco la tua sapienza è mille miglia lontana dalla veduta di Dio e che hai una veduta umana c'è un senso un senso di un ragionamento non completo ecco anche povero cioè hai una vista interiore spirituale quanto larga quanto il palmo di una mano quindi tu che sei piccolino nella mente nei tuoi giudizi come puoi arrivare a giudicare qualcosa che ti è superiore come appunto la volontà divina ecco non puoi giudicare è quel fatto tu devi solo credere credere in quello che le scritture ti dicono in quello che i dottori della chiesa ti raccontano certo a colui che me cosa sottiglia se la scrittura sopra voi non fosse dice se non non ci fosse stata la scrittura se non ci fosse la scrittura allora sì ci potrebbe essere qualche dubbio ci potresti stupire ma tu che conosci la scrittura non devi porti queste domande devi avere questi dubbi non puoi dubitare sulla giustizia di Dio o animale o terrene animali o menti grosse ecco voi siete solo degli esseri a volte incompleti cioè presuntosi non capite avete le menti ottuse grosse e volete la spiegazione di tutto la prima volontà cioè la volontà di Dio che è di per sé stessa volontà di bene non si è mai distolta da sé la prima volontà è da sé buona da sé che insomma ma beh mai non si mose cioè non cambia mai Dio il bene di Dio è sempre bene cotante giusto quanto a lei consuona nullo creato bene a se la tira cioè è giusto è giusto quindi è giusto solo quello che si conforma alla sua volontà consuona a lei ecco non c'è nelle cose create un bene che possa attirare a sé la volontà di bene che è solo Dio increato che può attirare a sé quale sovresso il nido si rigira poiché appasciuto la cicogna e i figli e come quel che pasto la rimira cotal si fece e si levai di cigli la benedetta immagine che l'alimo vea sospinta da tanti consigli ecco e quindi l'aquila ecco le anime dell'aquila si muovono si muovono come quando sono come fa l'esempio di quando ecco la cicogna ha appasciuto il suo dato da mangiare ai figli e ai letti e quindi si girano e tutti soddisfatti e quindi ecco si gira roteando e quindi anche anche le anime dell'aquila incominciano a cantare a roteare come una cicogna sovra il nido e quindi Moesonina di altri consigli e rotando cantava e diceva quali sono le mie note a te che non li tendi tale giudizio eterno a voi mortali e roteando cioè danzando volando volteggiando come ecco come come uccelli cantano e dicono questo come le parole del nostro canto tu non le puoi capire perché sono al di sopra della comprensione umana che non le intendi così tu non puoi comprendere voi mortali non potete comprendere il giudizio eterno di Dio cioè non potete inabissarvi nella volontà di Dio quello che appare all'uomo giusto magari agli occhi del Signore ha un altro valore al contrario ciò che a noi a volte ci appare qualcosa di ingiusto bisogna poi vedere se veramente così la verità la sa sempre Dio che può giudicare poi si quietarono quei lucenti incendi dello Spirito Santo ancora nel segno che fei romani al mondo reverendi esso ricominciò a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo vel pria vel poi che si chiamasse al legno ma vedi molti gridano Cristo Cristo che saranno in giudizio assai men proprie a lui che tal che non conosce Cristo e tra i cristiani dannerà l'etiope quando si partiranno i due collegi l'uno in eterno ricco e l'altro inope ecco poi quelle lucenti incendie quelle fiamme ancora ecco ancora più più lucenti perché hanno dato spiegazioni a Dante su una tematica molto importante e quindi dello spirito santo cioè incendiaggiano fiamme della volontà di Dio che è spirito di carità e spirito d'amore ancora nel segno quindi ancora ecco formano il segno dell'Aquila c'è il segno quel segno che ha reso grande l'impero fatto conoscere ecco Roma nel mondo ricominciò a parlare a questo regno a questo regno del paradiso a questo regno di beatitudine non salì mai cioè nessuno può essere salvo se non credi in Dio quindi non salì mai chi non ha creduto in Cristo chi non ha creduto in Cristo nessuno può essere salvo senza la fede in Cristo e nel Cristo pria nel Cristo venturo e in Cristo venuto e morto crocifisso e quindi questo l'Aquila hanno fatto che ribadire quello che è la verità cristiana il dogma cristiano della risurrezione dell'incarnazione e della risurrezione ma vedi dice molti gridano Cristo molti appaiono devoti credono fanno credere di essere devoti al Cristo e lo nomino e lo hanno sempre in bocca che poi bisogna vedere che se veramente sono sinceri nella loro fede nelle loro azioni nella pratica del bene perché non basta la fede se non ci sono le opere di carità che saranno in giudizio assai ma in vicino assai ecco la fede non è la fides ecco ci può essere anche una fides implicita cioè una fede spontanea che Dio riconosce valida e che ci saranno giudizio assai ma in proprio anche tanti che sono lontani dalla fede che magari si salveranno salveranno che saranno più vicini a lui che tale che non conosce Cristo cioè questi che gridano in realtà saranno meno vicini a Dio quindi potranno non salvarsi proprio quelli che gridano sempre mentre si può salvare quello che non ha conosciuto Cristo appunto per la fede semplicita che ci può essere stata in lui per quella quella quell'agire volontario volontario e senza malizia malizia che può anche un gentile un pagano poteva conoscere ma è chiaro che la salvezza la beatitudine viene data solo se c'è la conformità alla volere di Dio di un criocristiano e tai cristiana dannerà l'etio e a volte questi cristiani ipocriti insinceri saranno giudicati giudicati proprio da quelli che considerano infedeli l'etio appariva come un infedele ecco che non hanno conosciuto Cristo e saranno perché i cristiani saranno biasimate per le loro azioni per il loro comportamento per le loro nefandezze e quando ci sarà un giudizio diversale quando i malvagie buoni saranno divisi nei due collegi ad oriente e molti sia da oriente che da occidente verranno e siederanno con Abramo Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli e invece i figli del regno saranno cacciati nelle tenebre ecco e quindi è probabile che proprio l'etiope si salverà mentre i cristiani e qui a quelli che hanno sempre parlato di Cristo ma che poi hanno agito in maniera non conforme alla volontà di Cristo non si salveranno ecco noi ci fermiamo qui perché poi c'è un elenco di regnanti di cose ecco l'importanza del canto è stata fatta con questo e quindi un canto veramente significativo importante e ora ecco possiamo dire che ecco aggiungiamo qualche altra cosa che il mondo è stato detto da Dante non può vedere tanto lontano benché dalla proda veggia il fondo se è letto prima in pelago non il vede e non di meno egli è ma c'è la lui l'essere profondo questa è la telsina che abbiamo letto l'abbiamo approfondita ed è un po' la sintesi di tutto il canto la composizione del canto con la sua sinfonia i richiami alle terrene faville all'irraggiungibile distanza dei suoni di fondo i motivi effimeri come scintille di un tizzone e l'ampia splendente distesa a cui l'anima proda queste anime che svolazzano queste che sembrano papapule scintille che si innalzano il gaudio del segno terreno il gaudio dell'aquila ritrovato nei cieli non potrebbe essere più sapiente immagini voci suoni manifestano la grande arte di Dante e questo è uno dei momenti più alti della poesia della commedia ma ora andiamo ecco al settimo cielo andiamo al canto ventunesimo al settimo cielo nel pianeta di Saturno la scala di colore d'oro d'oro la cui cima si perde in alto e dalla quale scendono gli spiriti uno di essi è San Pier Damiani rispondendo a Dante parla della predestinazione impossibile da spiegare alla mente umana perché opera di Dio narra la propria vita e si rimprovera poi l'eccessivo lusso dei prelati è un canto anche questo molto importante la domanda sulla predestinazione è ancora sillante nella mente del pellegrino Dante terminata di parlare l'Aquila il poeta guardando Beatrice si trova levato al settimo cielo il cielo di Saturno dove sono le anime dei contemplanti le anime sono disposte appunto lungo la scala simboleggiante la mistica scesa verso la santità la cui cima va al di là della vista umana le anime rammentano nel loro continuo svolazzare le cornacchie uno degli spiriti è pronto uno degli spiriti è pronto a rispondere al pellegrino l'anima è venuta incontro a Dante per esplicita volontà divina perché le anime si muovono per volontà divina la santità di San Pier Damiani è una santità solitaria vissuta nel paesaggio montano petroso degli appennini come racconterà lontana dai dibattiti teologici colti del tempo anche Dante ormai è stanco di sillogismi di decreti di opinioni è ormai lontano dagli entusiasmi intellettuali presenti nelle opere anche minori come c'erano nelle rime petrose o nel convivio stesso la schermaglia poetico filosofica non lo riguarda più il pellegrino ascolta attentamente Pier Damiani parlare di sassi tra virgolette che si innalzano fra l'uno e l'altro mare d'Italia cioè di conventi di romitori lì nei romitori religiosi col nutrimento di succhi provenienti dalle piante sopportando con pazienza e i caldi e i geli delle stagioni ecco si era dice San Pier Damiani capaci di farsi degni della benevolenza divina in quel loco fu io Pietro Damiano e Pietro peccatoro fu in casa la casa di nostra donna insullito Adriano sono versi che poi leggeremo quindi c'era San Pier Damiano come suo nome però di fronte alla Madonna di fronte alla Vergine nella chiesa si faceva chiamare Pietro peccatore allude ai primi anni passati a Pomposa nella basilica presso Comacchio che Dante stando Ravenna poteva conoscere rimanendo affascinato dal puro ascetismo che si respirava in quel luogo solitario Pier Damiani parlando della corruzione ecclesiastica usa parole semplici non certo toni poetici da cui emerge ecco usa parole semplici da cui emerge la spazientita tolleranza del del buono del buono monaco semplice che avrebbe voluto anche che altri religiosi vivessero la vita nella semplicità ecco esalta la santità dell'essenzialità eroica ecco sentimento che troveremo poi nel canto seguente quando incontreremo nel canto ventiduesimo San Benedetto siamo quindi con questi due canti ecco il canto di San Benedetto lo faremo la prossima volta però siamo condotti ad un mondo lieve di vita di vite sante non confuse nel chiasso mondano ecco vite ecco illuminate da profonde verità e soprattutto da una grande pietà cristiana ora possiamo incominciare il canto ventunesimo ventunesimo e quindi siamo al settimo cielo c'è la scala con l'oldoro la cui cima si perde nell'alto già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna e l'animo con essi ed ogni altro intento s'era tolto e quella non ridea ma se io ridessi mi cominciò tu ti faresti quale fu semele quando dice ne raffessi che la bellezza mia che per le scale dell'eterno palazzo più si accende come hai veduto quanto più si sale se non si stemperasse tanto splende che il tuo mortal podere al suo fulgente sarebbe fronda che trono scosciente già i miei occhi si erano staccati dagli occhi dall'immagine dell'aquila e si erano rivolti a Beatrice al volto della mia donna e che da ogni altro intento s'era tolto e quindi ogni altra cosa non aveva più colpito la mia attenzione e quella ecco Beatrice non rideva e spiega perché non ride perché se io ridessi dice io ecco tu saresti incenerito ecco la mia bellezza sarebbe talmente aumentata che tu non reggeresti al turgore al calore anche di questa fiamma la fiamma della della Beatrice questo chiarore ti accecherebbe ecco l'esempio di Semele cioè la figlia di Cadmo che era amata da Giove al quale però chiese perché era stata estricata da Giunone a dire così di vederlo nella Somma di Stati di vederlo in tutto il suo splendore la vide però rimase folgorata folgorata ecco fu incenerita quindi se tu se io ridesi risprendessi ancora di più il tuo potere umano ancora non potrebbe sopportare tanto fulgore tanto fulgore e quindi ecco tanto 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 fulgore e allora perché la bellezza è mia che per le scale dell'eterno palazzo più sacerdì perché la mia bellezza man mano che saliamo ecco per queste scale sono gli ultimi gradini per salire poi nella regione più importante quella delle stelle fisse il palazzo più sacerdì la mia bellezza aumenta e quindi tu se io non stemperassi ecco non cercassi di diminuire ecco di interrompere questo splendore e tu il tuo potere mortale non reggerebbe appunto tanta tanta chiarezza perché l'uomo è sempre limitato di fronte alla immagine ai simboli della divinità noi sellevati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggiamo misto giù del suo valore ficca di retro agli occhi tuoi la mente e fa di quelli specchi alla figura che in questo specchio ti farà parvente ecco ci siamo dice Beatrice inalzati al settimo al cielo settimo quello di Saturno che qui è esatto nella costellazione del leone e che ora iraggia il suo influsso sulla terra l'influsso di Saturno sulla raccolazione di Saturno a partire dal terzo cielo Dante si era accorto infatti che la bellezza di Beatrice era aumentata questo che significa che Saturno adesso era anche il pianeta che predisponeva alla contemplazione alla vita solitaria alla contemplazione e il leone il leone in realtà può ispirare l'ardore della carità quindi anche queste figure hanno il loro simbolismo gli spiriti che appaiono infatti in questo pianeta sono degli spiriti contemplanti cosa significa spiriti che sono stati accesi dalla fiamma d'amore per Dio ecco il leone la fiamma d'amore per Dio qual savesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto veato quando io mi trasmutai ad altra cura conoscerebbe quanto m'era grato obbedire la mia celeste scorta contrapesando l'un con l'altro lato allora dice Dante fissa la mente con la massima acutezza attenzione e quindi era contento anche di 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 questa anche di questa obbedienza e quindi era grato quindi chiunque mi avesse visto in corromento potrebbe capire quanta gratitudine io avevo nell'obbedire alla mia celeste scorta alla mia celeste guida a Beatrice mettendo nella bilancia contrapesando lungo l'altro lato vedendo che avevo tutto da guadagnare a obbedire a immedesimarsi in quanto diceva in quanto seriva le parole di Beatrice e quanto mi era grato obbedirle soprattutto mettendo la bilancia da un lato la volontà di guardarla il gusto di guardarla e dall'altro soprattutto quella di obbedire ad essa dentro al cristallo che il vocabolo porta cerchiando il mondo del suo caro duce sotto cui giacque ogni malizia morta di color d'oro in che raggio tra luce mi dio uno scaleo retto insuso tanto che non seguiva la mia luce vedi anche per i gradi scendere giuso tanti splendori che io pensai che ogni lume che parla il cer quindi fosse diffuso e come per lo natural costume le pole insieme al cominciare del giorno si muovono a scaldare le fredde piume poi altre vanno via senza ritorno altri rivolgono se onde sommosse e altri roteando fa soggiorno tal modo parve a me che qui vi fosse in quello suo villare che insieme venne siccome in certo grado che si percosse eccoci fermiamo e dentro al cristallo c'è dentro allo specchio il pianeta è uno specchio un cristallo è uno specchio che il vocabolo porta che il pianeta il pianeta ecco emanava una luce pensava una luce piuttosto cristallina fredda la luce di Saturno la terra che è cerchiata da Saturno nel suo movimento diurno e Saturno che era caro re duce della terra dice qui caro re sotto il cui regno ci fu l'età dell'oro era l'età della felicità quando gli uomini vivevano pacificati non conoscevano guerre e fu spenta ogni malizia ogni malvagità e l'umanità fu innocente e quindi allude Dante al mito pagano dell'età dell'oro e quindi nel suo caro duce sotto qui Gianco è una malizia e quindi è la luce della serenità in realtà questa luce cristallina dà serenità è di color d'oro di che raggio tra luce quindi è del colore dell'oro su cui batte un raggio di sole era scintillava questa scala il valore simbolico è chiaro come l'oro certamente ha il suo valore maggiore di ogni altro metallo così la stessa vita contemplativa supera ogni altra scelta anche di carattere spirituale perché risplende come un raggio del sole fa risplendere e quindi la vita contemplativa è come se fosse illuminata dalla grazia eterna del sole quindi la vita contemplativa che è un simbolo di ascesa cioè di salita a Dio mediante ecco l'allontanamento da ogni desiderio terreno da ogni vanità terrena e quindi è un'ascesa a Dio che ricorda molto la scala di Giacobbe ecco il sogno che Giacobbe fece di una scala dorata e io vedi dice Dante che vedevo tutte queste anime e che grandi splendori e che poi le paragona a delle a delle cornacchie non in senso ecco ecco queste anime che si muovono come pole cioè le cornacchie o mulacchie anche viene chiamate e che quindi alcune tornano in un luogo si spostano cambiano si muovono come fanno appunto l'uccele al mattino che per vincere il freddo ecco si muovono le piume ecco danzano camminano comunque questo sfavillare di anime anime serene anime quindi è un'immagine di serenità quella che Dante ci presenta in questo momento e quel che presso più ci si ritenne si fessi chiaro che io diceva pensando io vengo bell'amoro che tu m'accenne m'accenne e qui indica un'anima sola sono tutte ecco erano talmente armoniose armoniose che c'era anche un'armonia di movimenti non c'era il disordine scomposto di queste anime ma quella onde io aspetto il come e il quando cioè Beatrice da cui Dante si aspetta il modo e il momento in cui può parlare del dire del tacere si sta onde io contro il disio fu ben che io non dimando quindi si guarda bene dal chiedere aspetta il permesso di Beatrice perché la che vedeva il tacere mio nel vedere di colui che tutto vede mi disse solvi il tuo caldo disio quindi sciogli il tuo desiderio dimostra parla e io cominciai la mia mercede non mi fa degno della tua risposta ma per colei che il chiedere mi concede vita beata che ti stai nascosta dentro alla tua letizia fammi nota la cagion che si presso mi t'apposta e ti perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso che giù per l'altre suona si devota ecco Dante chiede faccio la sintesi di questi versi Dante chiede vedete come mai ecco tutto tace la musica il canti e come mentre negli altri cieli c'era questa questa grande armonia quasi che ci fosse un'attesa l'attesa appunto che Dante è intero che Dante chieda a quest'anima ecco che quest'anima e tu dimmi quest'anima che sei fasciata della tua letizia sei fasciata della tua della tua luce ecco di dimmi chi ti apporta chi ti ha mandato da me ecco come sei venuta da me e risponde l'anima tu hai l'udir mortal siccome il viso rispose a me onde qui non si canta per quel che Beatrice non ha riso giù per gli gradi della scala santa discesi tanto sol per farti festa col dire con la luce che mi amanta lei più amor mi fece essere più presta che più tanto amor qui ci sofferve siccome il fiammeggiare ti manifesta ma l'alta carità che ci fa serve pronta al consiglio che il mondo che il mondo governa sorteggia qui sì come si tu osserve dice io sono venuta qui perché mi ha mandato sono stata sorteggiata cartellana sorteggiata per venire a parlare con te e con te giù per gli gradini della scala santa cioè tu hai l'udire hai un udito mortale dice così come la tua vista cioè hai un udito che non può reggere il grande suono la grande musicalità la tonalità accesa dei nostri canti perché ti sordiresti e come la tua vista è abbagliata ecco Beatrice non ha riso perché tu ti saresti abbagliato quindi avresti provato del disagio ecco perché abbiamo taciuto il canto ecco perché Beatrice non ha riso e siamo tutti scesi per farti festa bello per farti festa cioè per carità ecco per la carità è la carità che ci ha spinto è la carità che spinge queste anime contemplanti verso quest'anima che è alla ricerca della verità ha camminato tanto per giungere a capire a incontrare la verità ma più ma ma le più amore mi fece essere più questa ecco ma non c'è amore più più ecco cercando di essere più veloce possibile non c'è velocità maggiore di questa di quella dell'amore che mi spinge dell'amore di Dio che più tanto amor qui inci qui ecco parsi maggiore o meno maggiore del mio ecco sembrato che la mia io fiammeggiassi di più perché forse sono stata scelta per venire da te ma l'alta carità che ci fa serve quindi noi serviamo ecco l'alta 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 carità è la profonda carità la carità di Dio è l'amore di Dio che ci fa seguire il suo volere e quindi ci sorteggia quindi ha sorteggiato qui in questo modo che in questo mondo in questo modo che tu vedi è lui che governa il consiglio di questo mondo è lui che governa ecco questa ecco questa amministrazione di bene della carità io veggio me dissi io sagra lucerna come libero amore in questi corti basta seguire la provvedenza eterna ma questo è quel che la cerne mi fa forte perché predestinata fosti sola a questo ufficio tra tu e le tue consorte cioè com'è che tu sei stata sei stata lucerna lucerna è bella io vengo ben dice sagra lucerna o anima beata luminosa sagra ecco come libero amore come l'amore diffuso di Dio vige in questa corte e di anime che è Dio che è provvedenza eterna ecco ma tu perché ecco quello che io non mi è forte cioè non riesco ancora a capire come perché sei stata scelta proprio tu fossi tu a questo ufficio cioè fra tutte le altre compagnie sei stata scelta tu come anima preveni a parlare con me le venni prima all'ultima parola che nel suo mezzo fece il lume centro girandosi come veloce mola poi rispose l'amor che c'era dentro l'anima ecco sorridendo gira intorno a se stessa e poi parla luce divina sopra me sapunta penetrando per questa in che io mi inventro la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto che io veggia la somma essenza dalla quale è monta qui incivi è l'allegrezza onde io fiammeggio perché alla vista mia quant'ella è chiara la carità della fiamma pareggio esce luce divina luce divina sopra me quindi la luce di Dio sopra me mi ha spinto scusate luce di Dio sopra me si appunta su di me si è appuntata la luce sopra la volontà divina ha scelto me penetrando per questa che mi invento penetrando attraverso questa luce che mi invento nella quale io mi invento cioè io mi nascondo la cui virtù il potere congiunta all'intelletto mi solleva tanto che io vedo la somma vedo vedo la somma essenza cioè la somma essenza di Dio come sgorga quindi riesco a capire e capire quello che Dio vuole vuole da me qui ci vi è l'allegrezza da qui io risplendo di più perché sono sono ecco appagata di questa benevolenza di questa ecco dal fatto che posso rendermi utile quindi servire la volontà di Dio perché alla vista mia quant'ella è chiara perché alla vista quindi perché pareggio il mio fiammeggiare alla chiarezza della mia visione di Dio quindi tanto più sento vicino Dio tanto più io mi illumino la chiarità della fama ma quell'alma nel cielo che più si schiara cioè ma quell'alma che più vede in Dio quel serafin che in Dio più l'occhio ha fisso alla dimanda tua non satisfara però che si si inoltre nell'abisso dell'eterno statuto quel che chiedi che da ogni creata vista è scisso ma quell'anima ma l'anima che è più è beata e quindi che vede più chiaramente come un serafino gli serafini sono quelli più vicini a Dio che che ha l'occhio fisso sempre in Dio non potrebbe soddisfare la tua la tua domanda potrebbe darti nemmeno lui una risposta precisa perché si inoltre nell'abisso dell'eterno statuto perché questa tua domanda si inoltre nell'abisso della mente di Dio e quello che tu chiedi di ciò che è stato stabilito lo può sapere solo Dio che da ogni cosa creata è sciso quindi la volontà di Dio è lontana dagli esseri creati e gli esseri creati sono gli angeli e gli uomini e al mondo mortale quando tu riedi questo rapporta sì che non presuma a tanto segno più muovere i piedi e quindi quando torni nel mondo fallo capire agli uomini che vogliono penetrare vogliono fare i presagi vogliono penetrare nella mente di Dio che la mente di Dio è che non si può entrare in tale mistero la ragione umana non può mai commentare o giudicare meno che mai o capire la volontà di Dio l'agire di Dio che comunque è sempre un agire di bene la mente che qui luce in terra fumba onde riguarda come può la giue quel che non può perché il cielo assuma cioè la mente che qui luce la mente umana che qui in cielo è illuminata dalla grazia in terra è fumosa è ottenebrata dal fatto che è mortale quindi non ha le idee chiare per cui considera come potrebbe avere in terra la capacità che non ha neppure qui quindi ecco come può un uomo che ancora è vivo in terra capire avere la pretesa di capire Dio e il suo agire se quelli che vivono qui nel paradiso a contatto si vuol dire con la divinità non possono penetrare la volontà divina e quindi è una pretesa assurda quella degli uomini di poter capire o di poter prevedere ecco con una vista umana quanto Dio decide nella sua giustizia si mi pescrisse le parole sue che io lasciai la questione e mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fue e allora io ecco mi ho smisi di chiedere di insistere su questo argomento e chiesi chi fosse quest'anima che parlava tra due liti d'Italia surgon sassi ero molto distante alla tua patria tanto che troni assai suonano più bassi e fanno un gibbo che si chiama capria di sotto al quale è consegrato un ermo che suolesse disposto a sola latria così ricominciò mi il terzo sermo e poi continuando disse quivi al servizio di Dio mi fesi fermo che pur con cibi di liquore dolivi lievemente passava caldi e geli contento nei pensieri contemplativi rendersole a quel chiostro a questi cieli fertilmente e ora è fatto vano sì che tosto convie che si riveli in quel loco fu io Pietro Damiano e Pietro Peccator fu nella casa di nostra donna insullito Adriano poca vita mortal m'era rimasa quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di male in peggio si travasa venne cefasse e venne il gran vasello dello spirito santo magri e scalzi prendendo il cibo da qualunque ostello or voglion quince quindi chi rincalzi di moderni pastori e chi li meni tanto sono gravi e chi dietro li alzi coprono dei manti loro i palafreni sì che due bestie vanno sotto una pelle oh pazienza che tanto sostieni ecco il discorso si presenta San Pier Damiani San Pier Damiani dice tra i due liti tra i due liti d'Italia e quindi fra i due liti sono dell'Adriatico e del Tirreno vi sono i monti dell'Appennino i sassi i monti dell'Appennino Umbro Marchigiano e tanto che sono tanto alti che i tuoni si formano già più bassi delle loro cime e lì si fanno un gibbo hanno formato un gibbo un rialzo che si chiama Catria un luogo che si chiama Catria al di sotto del quale è consagrato un ermo cioè un ermo il monastero camaldolese di Fonte Avellana che suole essere disposto a solo servizio di Dio la Catria significa parola greca significa servire servizio quindi di Dio così ricominciò il terzo il terzo sembo quindi il terzo discorso il terzo sembo e poi continuando disse qui al servizio di Dio io mi fermai e mi nutri ecco dei cibi che mi poterano dare le erbe del luogo il cuore di olivi e di olio di tutto ciò che l'erba la terra mi poteva dare e io trascorrevo e subivo i caldi e i geli contento perché ero immerso nei miei pensieri ecco contemplativi e quindi ecco e tu qui in questa semplicità di vita in questa essenzialità di vita che c'è anche ecco lasciare tutto lasciare tutti i desideri mondali e tutte le malizie del mondo vivere nella serenità della contemplazione rendere rendersole a quel chiostro a questi cieli fertilmente quindi io ero solito rendere fruttare al cielo a questi cieli già che le anime salgono non ai cieli ma all'imperio abbondante anime cioè io con le mie preghiere vuole dire riuscivo a far abitare il paradiso quindi a far inalzare le anime a migliorare le anime ecco e quindi venivano venivano io la mia solitudine la mia contemplazione le mie preghiere aiutavano gli uomini a convertirsi a migliorare la vita la vita e ora però tutto ecco è fatto vano ora ecco la contemplazione non è più seguita e dice in quel luogo io fui Pietro Damiani Pietro Damiani era una vennate che è morta a Faenza nel 1072 era di famiglia poverissima aveva fatto addirittura il pastore il pastore solo che aveva un fratello Damiano che era un arcidiacono e quindi gli permise poi di studiare e lui per gratitudine prese il cognome appunto di Damiano e divenne poi maestro a 30 anni si fece in monaco nel monastero appunto di Fonte Avellana di cui ha parlato adesso e di cui anche fu abate e per la sua santità di vita fu molto conosciuta e tante che ebbe anche tante incombenze tanta gente l'andava a trovare e quindi fu molto conosciuto e diventò addirittura cardinale ma dopo pochi anni desiderò desiderò tornare nel suo nel suo semplice convento e Dange dice che il santo si chiamò Pier Damiano di Amano nella chiesa di Santa Maria in Porto presso Ravenna nell'Adriatico e Damiano e che usava quando si firmava si firmava con delle lettere lettere opuscoli come Petrus Peccator anche se qui c'è un po' una confusione perché probabilmente da Dante confonde Pietrus Peccator con Pietro degli Onesti che anche lì Ravennate che era stato sempre nella chiesa anche lui Santa Maria in Porto ecco qui non c'è c'è un po' forse un errore di Dante comunque San Pietro Damani è una un'eremita santo santo che esalta qui la vita contemplativa quindi Dante capisce anche lui ha bisogno ecco del romitaggio della solitudine è troppo vissuto la negatività della società a volte la malvagità dell'agire umano e che quindi ha bisogno di una solitudine che solo la vita contemplativa li può assicurare vi può assicurare poca vita mortal me la rimasa quando fui chiesto e tratto a quel cappello dice ecco mi ero rimasto pochi anni da vivere quando fui eletto cardinale e cardinale che però adesso la condizione cardinalizia non è più non mira più alla santità e si sta traviando venne un tempo c'è fu Pietro c'è fase Pietro venne il gran vasello della grazia il vaso della grazia che è il vero di spirito santo che è San Paolo che vissero di povertà magri e scalzi e camminarono e portarono e annunciarono la parola la parola del Vangelo prendendo il cibo da qualunque senno accontentandosi di qualsiasi cosa la gente potesse potesse loro dare ora invece i nuovi cardinali i nuovi religiosi vogliono questo e quello quindi e quindi da qui e di lì vogliono ecco gli aiuti gli aiuti dei dei servi che che possono aiutarli e rincalzi i moderni pastori cioè vogliono gli aiuti e chi li conduce chi accompagna tanto sono appesantiti dal troppo mangiare e chi di retro li alzi e quindi con i i caudatari si chiamavano quelli che sollevavano la cappa quando salivano a cavallo oppure addirittura quando dovevano salire e salire le carrozze a cavallo dovevano spingere attraverso spingere la schiena per farli salire quindi anche c'è un verso piuttosto ironico qui sicché alla fine chi vedeva da lontano vedeva due bestie l'umano e il cavallo e il cavallo essere ammantati da una sola cappa che li rivestiva a questa voce vi dio più fammelle di grado in grado scendere e girarsi ed ogni giro le faceva più belle dintorno a questa vennero a fermarsi e ferro un grido di sì alto suono che non potrebbe qui assomigliarsi né io lo intesi si vi vinse il tuono a questa voce a questa voce vi dio più fiammelle di grado in grado rendersi e girarsi c'è vi di tutte le luci delle fiamme le fiamme le anime e che erano contenti e perché perché era cresciuto nel sapere ecco perché un santo aveva parlato a un pellegrino e ogni giro si facevano più belle ed intorno vennero a fermarsi e fecero un grido di gioia ma talmente intenso intenso che ecco Dante fu stordito fu sopraffatto dal rimbombo di quel grido e con questo grido con questo bagliore di luci con questo sfaviglio di anime con questa serenità con questa semplicità di San Pier Damiani noi concludiamo la nostra lezione vi saluto Maria Luisa Costantopoulos Grazie a tutti